Grazie eccellenza perché mi ha voluto bene come un padre e con il suo esempio e di mia madre qui presente insieme a mia sorella mio fratello e a tutti i parenti da voi ho imparato una fede operosa, la generosità verso i fratelli, la serietà del lavoro quotidiano e il gusto di una vita semplice Alla mia mamma dico di stare tranquilla perché io vado in buone mani un pensiero intimo e molto bello quello di Monsignor Giovanni Massaro per chiudere il suo discorso ieri pomeriggio all'interno di una piazza Vittorio Emanuele II ad Andri emozionata ed entusiasta per l'ordinazione episcopale del neovescovo di Avezzano. Il 3 ottobre ci sarà l'ingresso nella nuova diocesi ma la lunga e coinvolgente celebrazione di ieri ha dato ufficialmente il via al nuovo mandato pastorale del presbitero andriese una diocesi in festa che potrà contare ora su due vescovi in carica nominati dal pontefice ed un arcivescovo emerito, il quindicesimo pastore nato in diocesi nell'era moderna, testimonianza di una chiesa molto viva e laboriosa Don Gianni Massaro, 55enne andriese, ha vissuto interamente la sua vita, come ha raccontato lui stesso durante il saluto finale, seguendo la vocazione. Giovannissimo vicario della diocesi di Andria e fortemente voluto dall'allora vescovo Monsignor Raffaele Calabro, che lo aveva ordinato sacerdote nel 1992 ha ricoperto moltissimi incarichi, tra cui padre spirituale di numerose realtà associative del territorio oltre che di docenza tra seminario e liceo scientifico Riccardo Nuzzi, poco più di sei mesi fa la nomina parroco della chiesa di Madonna delle Grazie ad Andria, prima che il 16 luglio scorso, giorno della celebrazione della Madonna del Carmine, ci fosse la chiamata da Roma, dove Papa Francesco gli avrebbe poi consegnato la nomina di vescovo eletto di Avezzano. Ieri a fare gli onori di casa, il vescovo della diocesi Monsignor Luigi Manzi che sul grande altare, allestito in piazza Catuma, con circa 1500 tra autorità, prelati e fedeli tutti nel massimo rispetto delle normative anti-covid-19, ha conferito assieme al vescovo emerito di Avezzano Monsignor Pietro Santore, al vescovo di Cerignola Ascoli Satriano, Monsignor Luigi Renna il nuovo incarico all'ormai ex vicario della diocesi. Il rosso a predominare nei colori anche per la scelta della giornata, cioè quella di San Matteo, apostolo nonché testimone della vita di Gesù attraverso uno dei Vangeli. Ed è ritornato moltissime volte l'esempio della vita di San Matteo durante la celebrazione e l'omelia di Monsignor Luigi Manzi, che ha voluto mettere in evidenza come la chiamata di Matteo è stato uno dei tantissimi disegni misteriosi voluti da Dio, proprio come quella di Don Gianni. Poi l'esortazione a seguire le strade nuove, quelle sconosciute della Marsica, per alzarsi dalle consolidate abitudini dalla propria città e dalla sua chiesa, per accogliere volentieri un nuovo progetto di vita. Poi il rito, dalle grandi emozioni e dall'antico fascino, la presentazione e gli impegni dell'eletto, il canto delle litanie dei Santi, l'imposizione delle mani da parte dei celebranti, l'imposizione del Vangelo e ancora l'unzione crismale, la consegna del libro dei Vangeli, la consegna dell'anello, della mitra e del pastorale, sino all'insediamento vero e proprio e all'abbraccio di pace finale tra gli applausi dei fedeli. Folta, la rappresentanza anche della diocesi di Avezzano, con circa un centinaio tra autorità, sacerdoti e fedeli, tutte presenti anche le autorità civili, militari e religiose della diocesi e non solo, presenti anche Monsignor Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila e a capo della conferenza episcopale d'Abruzzo e Molise, la benedizione finale del neovescovo tra lacrime e gioia. È stato lui stesso a ricordare nel saluto l'affidamento alla Madonna, nonna, compagna di viaggio in tutta la sua vita, con pensieri rivolti calorosamente alla propria famiglia, al clero locale, alle autorità e agli organizzatori della complessa serata, sino ad arrivare al popolo della Marsica, che dovrà guidare come pastore. Io vi chiedo di accogliermi con semplicità, così come sono, con fede e con cuore, ha detto Don Gianni Massaro, la Marsica è abitata da un popolo buono e accogliente, che vuole bene al proprio vescovo.